Che vi avevo detto? Avevo fatto un piccolo video, si è bloccato il video, è saltato un annuncio e il video è sparito, ecco, sapevo io, adesso non dovrebbero più scattare annunci. Comunque vi stavo dicendo che oggi è il 24 marzo, sono sbaglio, il 2018, sto preparando la pasta, sono a casa da solo, raga, da solo. Questo non è il mio programma, ripeto le cose che ho detto poco fa perché si è bloccato, questo non è il mio programma di tutto e di più, solito, quello di solito lo faccio ovviamente come voi sapete, chi mi segue lo sa, quel programma lì di tutto e di più lo faccio di solito al mercoledì, metto bene qua, lo faccio di mercoledì mattina, il mio programma di tutto e di più. Questo è un programma un po', come dire, improvvisato, sto un po' improvvisando, ok, quindi sono a casa da solo, ma sto cucinando la pasta. Poco fa avevo fatto alcun'altra cosa, ma poi si è bloccato il video, vabbè, che stavo dando un'occhiata alle classifiche europee, due o tre classifiche che ho scritto ieri, per dire, penso. E poi mi guarderò le classifiche delle canzoni più trasmesse per radio, scaricate, comprate, quello che volete voi, in tutta Europa, essendo, come sapete, un appassionato di classifiche e musica. Ok, spero che non si blocchi ancora il video, appoggio delicatamente, come dico sempre io, delicatamente, delicatamente, e niente, comunque niente. Spero che non si blocchi il video ancora, di solito non si blocca mai due volte, però. Qua ho messo l'acqua, che ne sono, ragazzi? Qui, sbotto la testa, non imitete, non fatelo da casa, non imitete. No, punto la pasta dentro, raga, mangerò tra circa 12 minuti, vento, qualcosa d'ora. Olè! Sono a casa da solo, ripeto di nuovo. E ho messo dentro la pasta, la pasta asciutta, e niente, e comunque, scherzo, e comunque niente. Arrivo, 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 arrivo. Non sapete cosa mangiare, non sapete cosa fare, non sapete che cosa inventarvi, non c'è niente da inventarvi. Non c'è niente da inventarsi, perché la soluzione è qui, no, la soluzione è qui. Pizzellini, o, pizzellini, oro, gel, i più buoni, in breve. I più buoni, in assoluto. Metto via, metto via. Io volevo bloccare il video, spero che non si blocchi tutto. Altrimenti ci vedremo, forse, mercoledì mattina. Spero che non si blocchi. Rieccomi se non si blocca il video. Non guardate i miei capelli. Ho preso le posate. Le metto qui. Accendino, le metto qui. Allora, qui la... Profumiamo l'ambiente. Lasciamo accesa questa qui, ok? Così profumiamo l'ambiente. Lasciamola accesa per un quarto d'ora. È passato il quarto d'ora! No, raga, sono qua. Non so. Odore, odore. No, sono qua, raga. Il congiuntivo... Na, 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 na. C'è le previsioni del tempo per oggi. Sole, nuvola. Non sento niente perché il volume è basso, raga, quindi. Il volume è basso. Come, Sanji? Vabbè, trasmetterei in diretta. Vabbè, io ho fatto una diretta ieri, raga. Ho fatto una diretta ieri su Instagram. Instagram. Lo zucca in bersama. Non fate caso, sono matto. Quattro minuti solo, ok. Penso che farò dieci minuti circa. Vediamo un po' se parte la canzone qua. La canzone è bellissima, no? Però non quella, perdonata. No, perdon, perdon, perdon. No, 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 no. Allora, arrivo, raga, se non si blocca il video. Brit, vai. No, ho sbagliato. Non volevo mettere Seb, Seb. Vabbè, Seb. Vai, Seb. Passiamo. Seb, Seb. 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 Ho una missione raga Presso che Difficile L'apertura del tonno È difficile Non pensate che sia facile Non è tanto semplice Aprire air tonno Non è tanto semplice raga No veramente Sembra semplice ma Alzare qui la Come si chiama questa Aiutatemi raga Aiutatemi voi Aiutatemi raga Levetta diciamo La chiamo così E Tra poco mangerò Due piatti di pasta Ovvero neanche uno No scherzo ovviamente Apro questo tonno raga Vado Non guardatemi Sono qua Vado Uno due tre Ho aperto il tonno Però è un po' difficile Mi ungo le mani adesso però Mi ungo le mani Non posso ungere il tablet Per dire Non posso Non posso Sto aprendo il tonno raga È molto difficile È una missione difficile Ma ce la posso fare Ce la posso Eh sì Vediamo Vediamo Sono qua Sono qua Sono qua Sto provando Sto provando Ce l'ho fatta Aprire il tonno Facendo un po' di disastro Ma ce l'ho fatta Me lavo Meto Getto Metto È il tono nel piatto Metto il tono nel piatto Non mi vedete Sono qua Sono qua Sono qua Sono qua Metto il tono Nel piatto È il tono nel piatto Che fastidio Queste cose Le odio No Il tono nel piatto Perfetto Ho messo il tono No È il tono nel piatto Un tono Correndo No Scusate Arrivo Sono qua Sono qua Sono qua Do una rischiata La pasta Perché non vorrei Che sia La cassa Diciamo Ora poi Inghietta Ci vuole un po' di tempo Ancora Sta andando Il video Si perfetto Me lavo Le mani Le mani Con il detersivo Logicamente Perché Ho le mani Unte da Conno Arrivo 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 Ho le mani Unte da Olio Di tonno Olio del tonno Olio del tonno Mettiamo là Mettiamo là Mettiamo là No Scusate Qua c'è un po' De olio di tonno Sul tavolo Devo pulirlo Ma lo farò Penso poco Sì E arrivo Devo stare Ungere 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 Le cose È il tonno È stato Molto difficile Mettere questo tonno Qua dentro È il tonno Un tonno Un po' scarso Non è di marca Però Sarà buono lo stesso È un luogo comune Che le cose di marca Sono le più buone Forse sì Forse no Cosa ne pensate voi raga Mandatemi una mail A Solito indirizzo Io non mi privo Chiocciola Hotmail Punto com O c'è anche l'altro Io non mi privo Chiocciola Yahoo Punto com Che però Credo che sia sempre Io non mi privo Yahoo Punto com Adesso tra poco Pranzo Cioè Pranzo Cioè È l'una e quaranta Inizia beautiful Che mi piace Lo guardo tra poco È l'una e quaranta È ora di pranzo Cioè Io devo ancora pranzare Ma in realtà Si pranzerebbe A mezzogiorno e mezzo L'una Tre Alle tredici Diciamo No Cioè Però Alla fine Pranzo sempre Quindi Forse non sarà L'ora di pranzo Ma se io Anche se non è l'ora di pranzo Cioè Io pranzo Perché Devo pranzare Non è che posso cenare A luna e mezza A luna e quaranta Non è una cena Un pranzo Cioè Però Non è Cioè Ne sento pranzo È Solita cosa Che non si capisce Siamo alla fine Raga ormai Io blocco il video Spero che non scatano annunci A tra poco Per il finale Credo Capelli orendi Io ho molto brutti i capelli Lo so Me ne rendo conto Mi devo andare a tagliare i capelli Lo farò O in settimana O dopo Pasqua A tra poco Se non si blocca il video Per Fine E ripeto Siamo il 24 marzo Se il sole Il sole adesso Non so se questo video No Non è detto Lo carico oggi No Forse questo video Ma lo carico domani È lunedì Intanto l'ho fatto Intanto l'ho fatto Ecco raga Et Voilà Il piatto È Pronto Ragazzi Mi sono anche scottato qua leggermente Una goccia d'acqua volente Ho la barba che mi copre No Comunque Grazie di questo video Noi ci vediamo Forse Sempre Forse Però Mercoledì mattina Forse Col mio solito programma Di tutto e di più A meno che non cambio giorno Bon appetit Baby Ciao raga Grazie Buon weekend Dai